Corsico, nell'Interland sud di Milano, qui l'amministrazione comunale, oltre ad aver aderito alla campagna No Slot, ha adottato alcuni provvedimenti e iniziative per contrastare il gioco d'azzardo patologico e le conseguenze sulle famiglie, visti anche i dati diffusi dall'azienda sanitaria di Milano, che ha avviato un progetto sperimentale dedicato alle vittime del gioco patologico. Si stima che nell'ambito del corsichese ci siano circa 250-300 persone con problema di gioco d'azzardo patologico. Quindi 250-300 persone nel corsichese, che significa sostanzialmente 250-300 famiglie. Proprio le misure che gli enti locali possono mettere in campo per contrastare il gioco d'azzardo sono state al centro della giornata di studio a Corsico, organizzata dal giornale Terre di Mezzo con avviso pubblico e la Lega delle Autonomie, primo appuntamento della Scuola delle Buone Pratiche, dedicata a legalità e pubblica amministrazione. Anche Corsico, come gli altri comuni, non ha molti strumenti a disposizione in questo momento. Sono alcune misure che sono state adottate, un cambiamento del regolamento di polizia locale, che ha rimetrato i luoghi all'interno dei quali si può o non si può installare le slot machine per sviluppare questo tipo di attività. E poi le attività che facciamo con le scuole a livello preventivo. Corsico sta facendo un percorso molto interessante di contrasto all'illegalità, quindi è un percorso di pubblica amministrazione e legalità, e come prima tappa si è pensato di andare ad analizzare il gioco d'azzardo. Cosa comporta questo? Quali sono le pratiche che un comune può attuare per la protezione e la salvaguardia della qualità della vita dei propri cittadini? E a questo riguardo Corsico sicuramente può insegnare molto. Corsico sicuramente può insegnare molto.